E allora un ultimo messaggio, Luigi da Bassano, ciao Pino, purtroppo stasera non sarò con te e Rezofonic a Desio, perché vicino a Desenzano c'è un invertibile appuntamento con dei giovani ragazzi che faranno delle cover dei protagonisti di X-Factor, con special guest Natalia e DJ Francesco, sarà per un'altra volta, sono preoccupato per la tua salute, è meglio che ti faccia un check-up generale, Luigi da Bassano. Lui mi ston toccando i coglioni, e fai una roba, portati dietro una decina di bombe a mano e ti fai saltar per aio tu e tutti quelli che ci sono lì con te stasera. Fa un culo lui, e salute ma solde. Sempre.